Ostia, via! Eh, vuole i soldi? Money, money, money! Ma per me siamo qua, io non c'era anche il portofoglio, quindi... Beh, io mille non li vedo. Mi sicuro. Adesso perché non passa? Perché se passano i... Ma gli autobus non passano all'estero... ... 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